Il Tribunale di Vallo della Lucania e quello di Lago Negro sono tra i più lenti in Italia nella definizione smaltimento dei procedimenti giudiziari, secondo la classifica stilata dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani a fine 2020. I dati si riferiscono alla durata media dei procedimenti tra il 2017 e il 2019 e rimasti pendenti al primo semestre del 2020 per 140 tribunali italiani. Nel 2019 si conferma che il tasso di smaltimento nel primo grado di giudizio è leggermente superiore al 100% ovunque, 105% al sud, 102% al nord e 103% al centro. La durata media è però molto diversa, al sud è stata di 518 giorni, al centro di 370 e al nord di 305. Il Tribunale di Vallo della Lucania è in penultima posizione con 749 giorni sul tempo medio prevedibile di definizione, confrontato tra lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso delle procedure definite nello stesso periodo. Il Tribunale Vallese sulla durata media dei procedimenti è migliorato di 35 giorni rispetto a tre anni fa. Sul tasso di smaltimento invece si va dagli 87 giorni nel 2017 ai 92 del 2019, numeri che attestano il distretto di Vallo tra le ultime 10 posizioni insieme al Lago Negro. Per il Tribunale Lucano i tempi di smaltimento di una procedura rimangono nei 96 giorni di media, mentre per quanto riguarda la definizione dei procedimenti è di 783 giorni di durata media nel 2017 e 735 giorni nel 2019. A livello d'appello Salerno si attesta al diciottesimo posto. Su una gradatoria di 36 di in Italia, Salerno le tempistiche legate alla durata media delle procedure tra definizione e smaltimento vanno dai 101 ai 122 giorni del 2017 per lo smaltimento, agli 823 nel 2017, ai 579 nel 2019 per la definizione. Potenza leggermente più staccata con una media di 115 giorni di smaltimento di procedure tra il 2017 e il 2019, mentre sempre nel capoluogo Lucano per il Disposition Time si viaggia con una media di 778 giorni del 2017 ai 687 del 2019. Restando in tema, l'ex deputato del Partito Democratico Simone Valiante torna a parlare di giustizia e rilancia l'idea del Tribunale del Parco. L'ipotesi spiega Valiante per migliorare la giustizia di prossimità nel nostro territorio potrebbe essere quella di accorpare il Tribunale di Vallo della Lucania e la sede di Sala Consilina. Si potrebbe istituire la sezione civile da una parte e quella penale dall'altra, in modo da alleggerire Vallo, migliorandone le performance e ripristinare Sala Consilina. Intanto Federico Conte di Leo in Commissione Giustizia ha segnalato alla Ministra Cartabia la questione relativa alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina. Nel 2013, dice il deputato, è stato fatto l'errore di indebolire la giustizia di prossimità sopprimendo molti tribunali, tra questi quello di Sala Consilina con l'annesso carcere che costringe un intero pezzo del territorio salernitano a migrare addirittura in Basilicata. Su questo bisogna riflettere.